La professoressa, l'architetto, il fisico e il musicista. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha nominato senatori a vita Elena Cattaneo, studiosa milanese di Staminali, Renzo Piano, l'archistar che da ultimo ha realizzato il Grattacero de Chard a Londra, Carlo Rubbia, Nobel per la fisica, e Claudio Abbado, direttore d'orchestra anche di milanese, per gli altissimi meriti nel campo scientifico, artistico e sociale, come recita l'articolo 59 della nostra Costituzione. Attualmente in Senato siedono solo Carlo Azzerlio Ciampi, come senatore di diritto, e Mario Monti, ultima nomina di Napolitano, arrivata quasi alla fine del suo primo mandato. Il capo dello Stato, che secondo la carta può nominare fino a 5 senatori a vita, ha parlato di un segno di serena continuità istituzionale, che arriva dopo la scomparsa, nel giro di due anni, di Sergio Pininfarina, Rita Levi Montalcini, Giulio Andreotti ed Emilio Colombo. Sfuma definitivamente, dunque, l'ipotesi di una nomina per Silvio Berlusconi, vi è uscita immaginata da più parti per l'arroventato divattito politico, dopo la condanna a quattro anni in Cassazione, dell'ex premier. In difesa di Berlusconi si è subito pronunciata Daniela Santanchè, secondo cui era la persona con più titoli e più meriti. Mentre tra i 5 stelle è stata subito polemica. Saranno stipendiati a vita senza essere stati eletti da nessuno, ha scritto il senatore Alberto Airola su Facebook. E poco importa che lo stesso piano fosse uno dei candidati pentastellati al colle.